Namaskaram Sadhguru. Voglio solo conoscere la differenza fondamentale tra la via di Shiva e la via del Buddha. È molto facile parlare della via del Buddha perché è molto logica. È piuttosto semplice in realtà. Ed è un processo molto lungo. In generale, i metodi che Gautama dava alle persone erano sempre una questione di alcune vite. Puoi chiaramente vederlo oggi. I buddhisti parlano sempre di questo. In particolare, i buddhisti tibetani, che sono i buddhisti più conosciuti al mondo oggi, per qualsiasi ragione politica. Parlano sempre di alcune vite di lavoro. Quindi, se hai quel tipo di pazienza, per cui sei disposto a lavorare per alcune vite, la via di Gautama è un processo molto efficiente, molto logico, scientifico, che si può seguire passo dopo passo perché è un sentiero della consapevolezza. L'importanza di percorrere il sentiero della consapevolezza è che ci sono dei punti di riferimento lungo il percorso che ti dicono hai raggiunto un chilometro, due chilometri, dieci chilometri, ti dice dove sei. Questo è l'aspetto più importante. Cioè, senza troppa fiducia o devozione puoi comunque crescere, perché hai un metodo a cui aggrapparti. Semplicemente continui a farlo, continui a farlo, continui a farlo. Ti mostra chiaramente che stai progredendo. Ma con Shiva non c'è una garanzia simile. E lui non fissa punti di riferimento. Non sai se stai andando avanti o stai andando indietro. Ma stai andando da qualche parte. Questo è tutto ciò che sai. È come cadere in un pozzo senza fondo. Suona terrificante. Voglio che tu capisca questo. Un pozzo senza fondo è il posto più sicuro in cui cadere. Un pozzo con un fondo è pericoloso. Un pozzo senza fondo è assolutamente sicuro. La tua vita è fatta. Se semplicemente ci salti dentro, è fatta. Cadi e basta. Se mai farai... Qualcuno ha mai fatto skydiving? L'hai fatto? Quindi, se hai una caduta libera e non apri il paracadute per alcune centinaia di metri, non sai se stai andando giù o andando su. Niente. Sembra semplicemente che tu stia fluttuando. Ed è meraviglioso. Solo quando guardi giù, il dannato pianeta ti sta venendo incontro ad una velocità tremenda. Se questo pianeta viene tolto, è un'esperienza fantastica. Solo se guardi giù, ti sta venendo incontro ad una velocità tremenda. Questo è l'unico problema. Cadere è... Non intendere il cadere come una cosa negativa. Cadere è una cosa fantastica. Ti sei mai innamorato? Solo quando tocchi il fondo, allora diventa brutto. Se sei caduto in un posto senza fondo, allora non c'è nessun problema. Quindi, Shiva è un posto senza fondo. I suoi metodi sono molto diversi. Ma non puoi limitarlo in questo modo, perché con sette discepoli diversi i sette Saptarishi, i celebrati Rishi di un tempo, ha insegnato sette modi fondamentali nei quali un essere umano può esplorare la propria consapevolezza. Da questi sette, i multipli di sette, è andato oltre e ha esplorato 112 modi diversi e ha detto questo è tutto. C'è una bella storia. Non c'è tempo per le storie. Quindi, ha esposto 112 modi diversi per far sì che un essere umano possa raggiungere il proprio apice. E questi 112 sono i 112 chakra nel corpo. Ce ne sono 114, ma due di essi sono fuori dal corpo fisico. ha lasciato da parte quei due e ha detto 112 modi diversi di raggiungere la realizzazione quando sei incarnato. Questo significa ogni chakra nel corpo, ogni punto di incontro del sistema energetico, un modo particolare di raggiungere la realizzazione. Quindi, non ha tralasciato nulla. Quindi, il Buddha è una piccola parte del suo lavoro. Voglio che tu capisca. Gautama stesso non è andato semplicemente a sedersi nella foresta. Gli otto anni della sua sadhana li ha trascorsi con vari maestri in tutto il paese. E l'intera colonna vertebrale di questo processo spirituale, questa conoscenza, proviene essenzialmente da Shiva. Ovunque sia, in qualunque parte del mondo, il processo spirituale fondamentale deriva da questa colonna vertebrale ed è stato portato in diverse parti del mondo in così tante forme diverse. Sembrano così diversi perché questi 112 modi diversi sembrano assolutamente diversi l'uno dall'altro. Quindi, qual è la differenza fra Shiva e il Buddha? Non è una domanda appropriata. Quale aspetto di Shiva ha esplorato il Buddha? Ha esplorato il sentiero della consapevolezza, che è un aspetto. È molto unidimensionale, ma l'importanza di Gautama e il Buddha è che lui è molto scientifico, clinico, fa appello alla mente logica. ma lui è... stava seduto anche così. Molte volte era una sceta, stava semplicemente seduto, immobile, ma molte volte era un matto che ballava, ubriaco. Era in tutti i tipi di stati, perché non si è limitato a nessuna dimensione particolare, ha solo esplorato ogni aspetto della vita. Quindi ciò che chiami la via del Buddha è solo un aspetto di questi 112 modi diversi. E così tanti altri hanno portato così tanti altri aspetti, ma modi individuali. Di questi sette discepoli, di questi sette Saptarishi, quello che ha camminato verso sud, sud significa qualsiasi cosa a sud dell'Himalaya, è sud. Sto parlando agli abitanti di Mumbai. Qualsiasi cosa a sud dell'Himalaya è sud. Quindi Agastya ha camminato verso sud ed è diventato particolarmente attivo oltre le montagne e vindia. Conosci quella storia sulle montagne e vindia che si inchinano ad Agastya Muni e lui non è più tornato, quindi conosci quella storia? No, devi imparare qualcosa sull'India. Quindi, in particolare, l'altopiano del Deccan si è dato da fare in modo tale da toccare ogni abitazione umana sull'altopiano del Deccan. ovunque guardi sentirei qualcosa su Agastya Muni e lui ha avviato questa azione per il ringiovanimento rurale. non ha escluso una sola abitazione umana. Ha portato il processo spirituale nella vita di tutti, dell'intera popolazione. Dicono che si è vissuto più di 4.000 anni. Non sappiamo quanto si è vissuto, ma decisamente la sua durata di vita non è stata quella di una vita normale. È stata straordinariamente lunga. quando semplicemente calcoli i chilometri che ha percorso, se gli avessi messo un contachilometri addosso e avessi visto quanti chilometri ha percorso, avresti visto che è una durata di tempo straordinaria. Non sappiamo se siano 400 o 4.000 anni. La gente dice che siano 4.000, ma decisamente ha vissuto molto a lungo. Toccando ogni abitazione e si è assicurato che un processo spirituale diventasse una realtà viva per loro. Stiamo ancora godendo del suo lavoro. Voglio che tu lo sappia. La parte meridionale dell'India sta ancora godendo del suo lavoro. Un certo, senza sapere perché, un certo livello di natura stabile che vedi è il lavoro suo. Perché ha portato lo yoga nella vita delle persone senza un'etichetta, senza un formato, solo in quanto processo di vita. Come ti alzi al mattino, ti lavi i denti, cucini, mangi, tutto questo lui lo ha reso un processo spirituale e ne stiamo ancora godendo i benefici. Se guardi qualsiasi processo spirituale ovunque sul pianeta, vedrai che non è al di fuori dei 112 modi in cui Shiva lo ha esplorato. quindi, paragonare Gautama e Shiva è inappropriato. Ho grande rispetto per Gautama. È un grande essere, niente da dire, suo lavoro è fenomenale, ha provocato un'immensa onda spirituale che è ancora attiva dopo 2500 anni. ma non è paragonabile. Non è in alcun modo paragonabile. Tutto ciò che possiamo dire è che il lavoro di Shiva contiene il lavoro di Gautama come un piccolo elemento. È meno dell'un per cento perché dei 112 Gautama ne ha esplorato uno. E la cosa importante è che lo ha commercializzato bene e ha incoraggiato migliaia di persone ad intraprendere il sentiero. Questo è il suo successo. Mentre Shiva è un po' troppo inebriato per fare marketing. Dovresti fare marketing per lui. Lui è non farà marketing. Ma comunque dopo generalmente si crede che sia circa tra i 40 e i 60 mila anni fa che iniziò il suo lavoro. Dopo 60 mila anni o 40 mila anni è ancora vivo non puoi ucciderlo. Non puoi ancora ucciderlo non è così? quando avrò finito la mia vita sono sicuro che lo lascerò un po' più popolare di come oggi. di come oggi. Grazie. Grazie. Grazie.